musica 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 oi sono qui nella postazione dei miei carissimi amici di Poker Factor che nonostante la mia ovvia e continua antipatia resistono e continuano a prestare il computer per andare su Facebook perché io tecnologicamente sono tipo come i Flintstone, quindi se non c'è il computer di Vincenzo qua si è ammessi veramente male allora, dopo i post comincia il day 4 allora, smaltita la delusione perché ieri a tre anni alla fine ho preso KK passo asso, ho perso 220.000 ci abbiamo 157 ho guardato siamo un bel 442 esimi su 666 adesso abbiamo due obiettivi uno immediato far scoppiare la bolla e andare a premio perché a me di lavorare 4 giorni 10 ore al giorno senza poi prendere i soldi veramente non mi sta bene quindi questo qui è un must, siamo qua devono uscire 18 che si sbrighino anzi, magari facciamo fuori uno anche noi e poi si va a premio dopodiché si ricomincia a accumulare chips perché qua il bello è che dopo che sei andato a premio più vai avanti più arrivano i soldini quindi da 19.108 milioni e mezzo c'è una leggerissima differenza che cerchiamo comunque di far diventare sempre sempre minore ho dormito un po' poco, tra l'altro ieri poi nella stanchezza ho perso lo zaino avevo porre di avere dentro il passaporto niente, avevo dentro solo gli occhiali un maglioncino zaino di piquadro bellissimo con cui ho fatto il giro del mondo prima che nascesse la mia prima bimba quindi pregno di ricordi però un appello se qualcuno l'ha trovato riportatemelo 300 dollari di mancia se ci sono dentro anche gli occhiali e detto questo sono al tavolo con Luca Moschitta che è un carissimo amico eravamo vicini ieri nel day 3 c'è il cip leader a 9.93 al posto 8 ovviamente alla sinistra perché io me li metto sempre scomodi almeno sennò diciamo il tavolo diventa un po' stimolante è troppo facile e non mi diverto parte quello il tavolo è bello perché sono terzo in cips cioè sono tutti piuttosto corti e questo dovrebbe far scorrere le cips abbastanza in fretta in un senso o nell'altro quindi non mi dà fastidio mancano 40 minuti diciamo che ci rivediamo per questa intervistina al day 5 che la facciamo ancora Babos a 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